Antichità? C'è. Medvedevo? C'è. Napoleonico? C'è. Guerra di successione? C'è. Prima e seconda guerra mondiale? C'è. Fantasy? C'è. Fantascienza? C'è. Quale sistema di gioco può essere applicato a tutte queste ambientazioni, a tutti questi periodi storici e non storici? Semplice. Comenza in Colors. Ciao a tutti, sono Riccardo Amasini e questo è Vlog. In questo video parliamo di un sistema fantastico, un sistema meraviglioso al quale io sono veramente molto molto legato, anche un po' emotivamente, perché è stato uno dei sistemi di gioco che mi ha riportato verso il world game storico, dopo anni in cui mi ero più dedicato al tridimensionale, quindi al gioco con le miniature, sia storico che non storico, e questo sistema si chiama Commence and Colors, di cui appunto vediamo qui in questo bellissimo Medieval, che poi ci accompagnerà anche nel segmento sul tavolo, quindi nel secondo segmento di questa miniserie di episodi. è un sistema veramente particolare, non lo vediamo qua su Medieval, dicevo Medieval è, mi pare, credo, l'ultima incarnazione di questo sistema, è difficile perché il sistema di Commence and Colors, lo vedremo molto presto, in realtà abbraccia un po' una marea di periodi storici, praticamente tutti, è stato riutilizzato praticamente per tutti i periodi storici, ma non solo, anche in ambientazione fantasy, e anche in ambientazione fantascientifica. Allora, da dove viene un sistema di gioco, di simulazione, perché comunque è un sistema di gioco di simulazione, per quanto astratto, per quanto con delle astrazioni, delle semplificazioni, anzi, anche, ma da dove viene un sistema di gioco così versatile da poter essere applicato a praticamente qualsiasi periodo, qualsiasi ambientazione, deve essere conoscetissimo, deve essere ancora oggi uno dei sistemi di wargame, perché è un wargame, più apprezzati e allo stesso tempo più conosciuti sia all'interno del mondo del wargame che al di fuori, beh, viene da una storia un po' particolare. L'attore è Richard Borg, non Berg, Borg. Questo autore aveva creato, diversi, diversi tempi fa, un sistema per il periodo napoleonico. Qual era il suo discorso? Io sono un grande appassionato di guerre napoleoniche, di battaglie napoleoniche, però la maggior parte dei giochi che trovo su questo periodo napoleonico o sono troppo complicati, oppure io riesco a giocarli, siamo più o meno a metà, anni 90 se non sbaglio, insomma, più o meno in quel momento, forse leggermente prima anche, e io riesco a giocarli, ma molti dei miei amici no, perché già era il momento di crisi del wargame, del gioco di simulazione, come lo conosciamo noi. Allora lui dice, ma io voglio creare un sistema di gioco che effettivamente chiunque, anche chi non ha una minima esperienza di gioco di simulazione, di wargame, posso giocare, però io sono wargamer, lo voglio ancora con gli esagoni, con i terreni, con i valori di combattimento, con i dadi, tutte queste cose qui, non voleva fare chissà che cosa di rivoluzionario in maniera così totale, lui alcuni elementi li voleva mantenere. E allora torna un po' alle origini del wargame, riscopre anche alcune cose che in realtà ci sono già addirittura nei cring spiel, e pensa, beh, posso creare questo sistema per il regolamento napoleonico. Lo va a proporre a varie case editrici e in particolare la famosissima Avalonile che all'epoca poi Asbro, era già Asbro, insomma, comunque già era il momento di transizione verso il mondo del wargame come lo conosciamo adesso, quindi c'erano ancora dei grossi nomi di ditte che però stavano già, erano già in fase di transizione, beh, insomma, questi signori gli dicono ma sa, signor Borg, il suo è un bel sistema, ci piace, ci piace anche tanto, però questa ambientazione napoleonica qui in America potrebbe, sembra un po' troppo seriosa, allora, mettiamola in un'ambientazione un pochino più nota, più vicina a noi, alla nostra storia, allora guerra civile, tirano fuori la guerra di secessione, una guerra civile, e poi dicono, sì, però alcune cose che lei ha messo sono un po' troppo complicate, lasciamole da parte, facciamolo più basico, più semplice, e Borg accetta, e nasce così il primo gioco con il sistema Comance & Colors, che all'epoca non si chiamava Comance & Colors, poi vedremo quando diventa Comance & Colors, si chiamava Battlecry, Battlecry esce e esce in una forma molto semplice il regolamento proprio in maniera essenziale, però già presenta due aspetti fondamentali di quello che sarà poi il sistema Comance & Colors, vero e proprio. Un campo di gioco, un terreno, una mappa esagonata, con degli esagononi di terreno, quindi una mappa modulare, che voi vi andate a comporre, qui ci sta la collina, qui ci sta il fiume, qua ci sta la trincea, eccetera, eccetera, però appunto una mappa esagonata, e che voi andate a comporre sulla base di che cosa? Sulla base dello scenario specifico, così, in maniera molto semplice, non si devono fare otto mappe per otto scenari, se ne fa una tutta completamente piatta, e poi sulla quale si mettono poi dopo i vari esagononi, a dire, questo esagono è di collina, questo è di fiume, questo è di trincea, e poi, altra cosa fondamentale, questa mappa divisa in tre settori, questi tre settori corrispondono appunto al centro, sinistra e destra dello schieramento, e si tirano delle carte, si estraggono delle carte, che comporono la propria mano di carte, e queste carte vi diranno, puoi muovere due unità a destra, puoi muovere un'unità a sinistra o nel centro o una a destra, puoi muovere tutta la tua fanteria in un unico settore, eccetera. oltre a questo l'altro grande aspetto, l'altro grande elemento di questo sistema di gioco è che non ci sono tabelle o controtabelle, CRT, vedere i rapporti di forza, no, semplicemente si mandano avanti le unità che sono rappresentate all'epoca in battle cry da delle miniature, cioè dei soldatini di plastica, classici, e appunto ognuno tirerà un certo numero di dadi speciali e qui rientra Critchfield perché usava un sistema molto simile di dadi speciali che al posto dei valori numerici su ogni faccia o da 1 a 6 riportano delle sciabole, riportano il simbolo della fanteria, il simbolo della cavalleria, insomma voi tirate questi dadi e vedete subito dell'altra unità quanti soldatini ho eliminato, si deve ritirare, ce l'ho fatta, eliminarli in corpo a corpo oppure a distanza, eccetera, eccetera. quindi non c'era una tabella, voi tirate questi dadi speciali e immediatamente i dadi speciali vi dicono l'unità nemica che tu hai attaccato perde due pezzi perché è di fanteria quindi c'è uscito i due simboli di fanteria e poi una bandiera quindi si deve ritirare, ok? Quindi con dei risultati anche molto variabili, più variabili con maggiori gradazioni rispetto ad una tabella di combattimento classica. beh, questo sistema piace, Battle Cry è un grande successo anche se Borg dice beh sì, però io l'ho ridotto veramente all'osso, non sarà mai completamente soddisfatto di quella che diventerà, già piccolo spoiler, la prima edizione di Battle Cry. poi arriviamo un pochino più in là e arriviamo ad un anniversario dello sbarco in Normandia dove un'altra casa editrice la Days of Wonder gli chiede senti ma tu che hai fatto questa cosa molto bella, molto carina sulla guerra civile americana ma ce ne fai una versione ancora più accomodata sulla seconda guerra mondiale perché noi ci chiamiamo Days of Wonder e noi abbiamo la possibilità di venderla negli shop, nei negozi per l'anniversario, in uno degli anniversari dello sbarco in Normandia. Borg fa questa versione e la chiama appunto per gli shop e per i negozi della Normandia e per i souvenir non la può chiamare souvenir, la chiama come Memoir 44 ed ascia appunto Memoir 44 che oggi è probabilmente la versione più conosciuta del sistema dei Comments & Corros anche se è ancora più semplificata per certi versi con ancora più astrazioni rispetto almeno almeno al suo aspetto base rispetto a Battle Cry quindi il sistema tende appunto a rimanere sul semplificato e sull'astratto anche se poi poi diverse uscite di Memoir 44 aggiungeranno ulteriori livelli di complicità e di dettaglio perché diverse uscite? perché Memoir 44 è un successo pazzesco a Memoir 44 tanto più che è un successo pazzesco che quindi non gli basta più solo il base ma comincia proprio un'intera linea di prodotti per Days of Wonder e Days of Wonder chiede a Richard Borg ma allora senti adesso fai una cosa ma tu avevi questa bella idea del napoleonico noi il napoleonico non piace però non c'è un altro periodo in cui tu lo puoi adattare beh sì ci sarebbe se volete io posso facciamo in mente un'idea per per il medioevo e loro dicono sì il medioevo è carino ci piace però non è solo il medioevo senti ma se facciamo anche un fantasy anzi meglio ancora se uniamo le due cose facciamo una specie di medioevo fantasy in cui c'è la storia normale umana però le nazioni ognuna corrisponde ad una certa razza che a me ricorda ricordi appunto delle miniature ricorda un po' Flintlock con il napoleonico vabbè insomma da questo un po' mischione nasce Battler che è stato un po' un pasticcio in realtà lì l'idea iniziale era buona Borg aveva inserito alcuni aspetti di costruzione del mazzo prima della partita dell'esercito delle caratteristiche dell'esercito c'era più la simmetria c'era molte cose interessanti Days of Wonder anche se ha un ottimo successo Battler Battler scusatemi le espansioni le pasticcia un pochino con le uscite eccetera insomma si vede anche che Borg a un certo punto non è più del tutto convinto insomma però comunque sia questa cosa va avanti da non confondere poi con qualche cosa con il fatto che anni dopo arriverà Fantasy Flight a prendersi il nome Battler e a creare una serie di giochi che si chiameranno ancora Battler da una parte o da un'altra oppure riambientati nel Trono di Spade e parte il Wargame del Trono di Spade li chiama Battler Game cioè un gioco della serie Battler anche se poi avrà magari vedremo una puntata prossima delle variazioni completamente diverse rispetto al sistema di Commands e Colors però ecco come vedete questi nomi questo sistema comincia a girare tra diverse casi di trice e una di queste che comincia a interessare si chiama Genity Games e la Genity Games chiede senti caro Borg e lui è di nuovo a riecomi qua sì lo so voi volete questo mio sistema che c'è tanto successo dove lo devo applicare le varieci no no la Genity Games no tranquillo torniamo alla tua idea iniziale so che la tua idea iniziale era quella di fare Napoleone Napoleone sì poi ne riparliamo facciamolo però torniamo alla serietà del tuo sistema iniziale tu vuoi fare comunque un gioco semplice di gioco comunque storia torniamo a quello che cosa facciamo dove andiamo nell'antichità e nasce eccolo là Commands and Colors Ancients che forse io suppongo ma secondo me da alcune cose che ho letto in giro sono abbastanza d'accordo sono abbastanza convinto diciamo così sia la prima versione che Borg ritiene veramente simile alla sua idea iniziale di cosa doveva essere questo sistema tant'è che Commands and Colors Ancients il nome Commands and Colors tanto è vicino l'idea iniziale che aveva Borg per questo sistema che rimane il nome che viene assegnato a tutto il resto della serie e da allora tutti gli altri sistemi si chiameranno Sistemi e la Commands and Colors anche se nel corso degli anni successivi verranno utilizzate da altre case editrici con altri contratti ovviamente sempre con questo Borg che comincia ad avere un certo porto in banca siamo molto felici per lui però anche se hanno altri nomi tutti pensano ma è un sistema tipo Commands and Colors quindi Commands and Colors diventa il minimo comune denominatore di queste idee perché poi è un'unione di parole se voi ci pensate che riunisce molto bene i due concetti essenziali della serie che poi adesso vedremo nella parte dimostrativa sul tavolo Commands comandi ordini che vengono dati tramite carte sulla mappa divisa da settori and Colors Colors è un po' ambiguo in inglese cosa significa sia colori perché un'unità è identificata da uno specifico colore che bandiere che simboli che standardi ok il vocabolo è volutamente ambiguo che sono un po' le diverse tipologie dell'unità e anche i simboli che poi si ritrovano sui dadi speciali che vi danno i risultati di combattimento Commands and Colors la serie anzi il sistema l'abbiamo detto ha un successo estremo e sopravvive sia a gestioni non ideali abbiamo visto il pasticcio un pochino di Battler che a versioni un po' accomodate come Memoir 44 che poi però evolverà molto quindi aggiungerà molte espansioni con molte cose interessanti quindi diventerà forse un pochino meno semplice ma più interessante anche dal punto di vista storico che poi dopo evolverà anche in edizione successiva perché di Battlecry la prima edizione aveva tanti problemi ma Battlecry poi dopo verrà fatta un'edizione del 150esimo anniversario dell'inizio della guerra civile quindi siamo arrivati al 2011 in cui il nostro Borg beh Borg risistema un po' le cose ricrea un pochino il gioco sulla base delle sue esperienze precedenti e rimette a posto i mazzi eccetera si rimane sempre molto semplice molto base molto base come complessità però già stiamo ad un discorso un pochino più serio molto più bilanciato o quantomeno secondo me molto più giocabile secondo me di Battlecry esiste l'edizione del 150esimo anniversario la prima edizione si è carina è bella dal punto di vista storico o lezionistico però ha molti problemi quella del 150esimo anniversario li risolve tutti morale della favola il nostro Borg se lo chiedete si alla fine ce la farà fare il suo napoleonico ed è come Encolos napoleonics che alla fine la GMT gli farà fare e che è qualcosa di fenomenale e ritorna alle origini finalmente ritorna alla sua idea iniziale ed è probabilmente a mio parere almeno la versione più interessante e più matura di tutto il sistema anche se prima che sono state tutte le altre serie di versioni è un pochino così un po' semplificata poi per napoleonics secondo me è la versione massima si vede un po' che poi partito da lì c'è asimmetria c'è gestione di mazzi diversi c'è diversificazione degli ordini ci sono tante cose le diverse nazionalità c'è il sistema che le unità tirano tanti dati sulla base di quanti blocchetti ci sono rimasti mentre invece in altri sistemi basta anche un blocchetto solo una summa miniatura rimasta e quell'unità comunque continuerà a combattere come se non avesse perso nulla ci sono delle motivazioni storiche in anciens ah perché in realtà le unità cedevano solo all'ultimo fino al momento in cui cedevano combattevano bene uguale però vabbè sono tanti discorsi però è chiaro che napoleonics è probabilmente il più maturo GMT appunto continuerà appunto con anciens con napoleonics adesso l'ultimo l'abbiamo visto adesso è medieval e lo vedremo sul tavolo cioè sul medioevo quindi è un sistema che è assolutamente ricchissimo e che poi si diversifica molta attenzione non è che tutti i giochi di combattevano sono uguali assolutamente no hanno queste cose le carte e i dadi la mappa queste cose di base uguali però ognuno inserisce qualcosa di diverso posso dirvi la variante Tricorn che è dedicata alla guerra del Settecento che è adesso uscito per Compass Games sulla guerra di indipendenza americana sulla rivoluzione americana e ultimamente è uscito quello sulla ribellione di Giacobita in Scozia ogni fazione ha il suo mazzo carte il mazzo di ordini che è diverso rispetto all'altra mentre invece normalmente nel sistema Comanze e Colos c'è un unico mazzo di ordine da cui tutti e due pescano quindi si inserisce molta simmetria Medievali inserisce degli ordini speciali che si possono caricare mano a mano durante la partita e poi dopo far partire The Great War che per Plastic Soldiers per la Plastic Soldiers Company ha tutta una fase di bombardamento iniziale e poi ha delle carte speciali che si aggiungono al mazzo ma anche a livello di componenti noi partiamo il GMT di solito c'ha dei blocchetti in cui dovete appiccicare una marea di etichette di zib blocchetti di legno poi vedremo come sono fatti altri invece hanno delle vere proprie miniature cioè dei soldatini abbiamo visto quello di Battle Crime appunto The Great War ha delle miniature molto belle quindi sono giochi anche molto diversi nel loro aspetto poi ci sono diverse varianti insomma c'è tanto ci sono varianti per esempio parte come gioco da due giocatori uno per parte però c'è una variante bellissima poi ne parleremo per più giocatori quindi come sempre e in maniera particolare lo stesso sistema dà luogo a tante cose come anze cose per dirlo è passato ad essere un gioco solo per due giocatori da 2 a 8 giocatori per le espansioni Epic Overlord e come lo volete chiamare quindi come vedete è un sistema assolutamente molto versatile è un sistema anche molto utile per far avvicinare molto il mondo del world game perché i veterani stessi poi l'apprezzano perché c'è un po' quella essenzialità quella comunque c'è strategia c'è tanta strategia quindi non è un giochino banale ecco quindi l'hanno ci sono dei veterani che sono appassionati persi io ricordo mi dico flybani Roberto flybani strategia tattica carissimo amico di mio padre perché il mondo è il nome assolutamente fondamentale del mondo del world game in Italia che era un appassionato perso di commands and chorus anciens nello specifico però appunto dicevamo appunto i veterani erano accettata o come alternativa leggera oppure perché magari una sera non hanno chissà quanto tempo per farsi le solite sparate di ore e ore oppure proprio come un gioco ottimo per agganciare delle nuove leve altri è vero ha un po' polarizzato altri ne hanno rifiutata perché questa interazione lo vedremo tra carte dadi eccetera può dare risultati un po' volatili chiamiamoli così possono dare fastidio però lo ripeto il suo valore è il fatto che è stato uno dei primi wargame leggeri probabilmente uno di quelli che hanno definito il concetto di wargame leggero cioè di una simulazione che comunque ha degli aspetti storici ma lo fa mantiene questi aspetti storici ma li mantiene con delle regole molto essenziali molto accessibili a tutti anche con certe abilizzazioni dai wargame per certi versi o comunque sia alcune cose simili alcune cose lo concettuali simili e appunto ha fatto entrare o rientrare molti nel mondo dei wargame è stato uno dei due anche la SCS ha fatto la stessa cosa con me che comunque personalmente è questo quello che mi è capitato e ormai procede con tanti editori Days of Wonder GMT Plastic Soldier Company Compass Games quindi una versatilità assoluta è stato applicato a tutta una marea di periodi storici di periodo storico c'è un commas in corso ci stanno lavorando e quindi in realtà più che il sistema è diventato ormai un motore un vero motore adattabile a più ambientazioni che possono essere adattate sia possono essere ricreate sia con l'organizzazione del scenario che introducendo alcune variabili a questo motore per meglio rappresentare alcune cose specifiche di quel periodo storico l'artiglieria era più potente allora facciamo come in Great World Command che c'è stata una fase di bombardamento iniziale c'erano più asimmetrie tra gli eserciti allora facciamo degli eserciti con delle caratteristiche nazionali più marcate come in Napoleonics c'erano la necessità di mantenere la linea continua perché se no non mandavi i tuoi comandi allora facciamo gli ordini di linea come in Commons and Colors Anzians tutte queste cose qua in extreme analisi io lo definirei un card driven c'è anche una certa diatribio su questo ma è un card driven game o meno sì perché c'è delle carte e gli ordini tu li dai sulla base delle carte sono le carte che ti dicono quanti ordini puoi dare in quale settore quindi c'è anche la gestione della mano che ti devi gestire con una certa mano perché se tu mandi un settore e c'hai una sola carta in quel settore il tuo attacco fallisce subito quindi ti devi creare la tua mano la tua strategia e questo simula anche le difficoltà di coordinare i comandi all'interno senza delle comunicazioni specifiche delle comunicazioni molto efficienti quindi io lo definirei effettivamente un card driven tattico perché in estrema sintesi le carte determinano quante e quali unità si possono attivare il regolamento stabilisce quanti e quali dadi possono essere tirati e come interpretare i risultati quindi direi assolutamente è un card driven con tutto quello che c'è di buono e c'è di anche di discutibile all'interno di un card driven quindi dovete cercare di capire che vi state avvicinando a un gioco di quella tipologia però ragazzi il gioco perire piuttosto che blocchetti oppure miniature storico oppure fantastico da 2 a 8 giocatore semplice con i regolamenti più complesso in altri andiamo dalla semplicità solo dei battle cry fino a un po alla complessità di napoleonix insomma lo si può apprezzare o meno ma indiscutibilmente si tratta di una preta minerale di wargame e secondo me ma non solo secondo me secondo tanti è uno dei titoli che hanno sono stati alla base della rinascita attuale del settore wargame ed è uno assolutamente dei più giocati ecco è un gioco è un wargame perché è un wargame che voi apriete la scatola e dopo aver etichettato ottenuti blocchetti vabbè ma se l'avete tutto pronto lo spiegate anche a chi un wargame non sa assolutamente cosa non ha mai giocato niente nella sua vita manco il risico e in un quarto d'ora ve lo giocate e in un'ora al massimo vi siete fatti uno scenario e visto che ci siamo ve ne fatti anche un altro o rifate lo stesso a parti invertite quindi più accessibile di così veramente abbiamo parlato un po' di alcuni titoli un po' di quelli più importanti per la storia ma poi ce ne sono tanti altri c'è Redala Earth per esempio per il fantascientifico con le astronavi quindi come vedete andiamo dagli opliti alle astronavi c'è le ambientazioni un po' particolari il Giappone feudale c'è Samurai che era della Svezda che adesso la GMT sta rifacendo con un'altra componentistica ed è abbastanza vicino all'uscita c'è Medieval che è appena uscito e per il quale sta uscendo l'espansione sulle crociate quindi come sempre veramente veramente tanto abbiamo detto più che un sistema è un motore è un motore di gioco e adesso noi andremo a parlare di questo motore di gioco così poi da poter apprezzare una volta che avevo imparato a capire che cosa di un gioco lo fa essere un gioco della serie Comence and Colors e poi appunto con questa base potremo apprezzare meglio i singoli titoli e le loro peculiarità quindi io adesso vi aspetto nella prossima puntata di questa miniserie che sarà già sul canale sul tavolo da gioco grazie a tutti